Stiamo facendo i gnocchi di patate e semolina e poi facciamo con la salsa ragù d'agnello. Non vediamo l'ora di assaggiarli. I nostri chef in azione. Hai capito? Ecco qua, farina caputo dal 1924. Capito? Ecco qua, adesso facciamo un altro taglio, vediamo un po' come funziona. Grazie a tutti. I gnocchi della nonna.